parliamo del mondo dei plantari un mondo in continua evoluzione con tecnologie sempre nuove pieno di interesse da parte di tutti i player di tutti gli sport anche nel campo medicale in particolare parliamo di un'azienda la flexor sport azienda di barcellona che produce disegna in barcellona i plantari che hanno sviluppato un plantare particolarmente interessante un po tuttofare questo aggettivo calza a pennello proprio perché questo plantare in particolare in multi activity che abbiamo in negozio in bf mountain shop è un tuttofare per le vari tipi di attività dei vari sport e soddisfa più richieste da parte dell'utente innanzitutto è adatto a tutti i tipi di piedi degli appoggi di tutti i piedi quindi piede cavo piede piatto arco medio o tutte le varianti proprio perché la sua struttura è molto morbida molto morbida abbiamo sicuramente intanto uno dei primi compiti deve assolvere un po un plantare che il supporto dell'arco plantare che però non è invadente non è rigido ma è morbido però funziona molto bene troviamo in particolare ecco per esempio nella zona del tallone un assorbimento in più un assorbimento da urto maggiore di ammortizzazione nella zona del tallone un'altra grande trovata è il punto di assorbimento diciamo di urto da impatto nell'avampiede che è il punto dove si spinge tantissimo per esempio nel ranico oppure ecco in termini di basket diciamo per esempio di tennis in questo punto qui si lavora tantissimo si va a caricare tantissimo un'altra cosa fondamentale è proprio il comfort appena si mette al piede sul plantare si sente questa piacevolissima sensazione di comfort ha quindi un assorbimento del sudore eccezionale perché rimane sempre asciutto il plantare è sviluppato con un materiale che ha una memoria del piede quindi si adatta esattamente alla forma del piede che avete è lavabile a 30 gradi quindi completamente lavabile è reciclabile al 100% lo so ho detto un sacco di cose ma è veramente così c'ha tutte queste qualità poi ce ne sono anche altre ma qui potete andare a consultare il sito bfmontageshow.com e cercare il prodotto flexor sport multiattivi dove ci sono tutte quante le caratteristiche tecniche del plantare trattando le scarpe essendo molto specializzati nelle scarpe abbiamo modo di lavorare con i plantari da tanti anni vediamo tante anche diverse esigenze devo dire che questo plantare ha questa funzionalità particolarmente alta ed è stato raro per me trovare un prodotto di questo tipo costruito e disegnato a Barcellona ha avuto già dei feedback molto positivi per noi anche dai nostri clienti che subito non hanno trovato dei benefici se non siete stati particolarmente soddisfatti da i plantari che vi hanno proposto non avete mai provato flexor sport multiattivi io voto for him dico ok secondo me è veramente da provare grazie a tutti grazie a tutti